rivendica con forza le azioni di bonifica e messa in sicurezza che la regione campania sta mettendo in atto carmela zuotto la margine della visita di vincenzo de luca sul ponte marconi ha voluto chiarire il suo impegno per questo annoso problema che affligge ben tre comunità a de luca zuotto lo ha fatto presente la necessità di accelerare quanto più possibile per mettere in sicurezza l'alveo comune nocerino e i suoi confluenti l'abbattimento del ponte marconi deve essere soltanto la prima fase di una più complessa azione di intervento sul territorio della regione e le sue partecipate è una grande soddisfazione per il comune di san marzano sul sarno oggi c'è l'abbattimento finalmente dopo quasi due anni di lotte dall'inizio di ottobre 2020 oggi c'è l'abbattimento del ponte marconi è una piaga logicamente ambientale e non sarà certo la soluzione la panacea di tutti i mali perché abbiamo un dissesto idrogeologico diffuso sul territorio però questa è la prima realtà la prima pietra che viene posta su questo disinquinamento e su questo grave problema che attanaglia il territorio di san marzano sul sarno ho portato nelle sedi istituzionali opportune o nei tavoli tecnici dappertutto i problemi del comune di san marzano sul sarno e oggi proprio il presidente della regione che è venuto qui dopo due anni dove fumo accusati di fare solamente delle passerelle oggi invece è tornato qui per vedere l'inizio e il completamento dell'opera quindi questi costi perché io fui accusata come sindaco di san marzano sul sarno di fare solamente parole le mie battaglie adesso hanno dato o iniziano a dare il loro primo frutto e soprattutto i costi di abbattimento demolizione smaltimento dei materiali sono tutti a carico della regione campagna nessun costo per il comune di san marzano sul sarno e questa è la soddisfazione più grande anche per la prima volta con l'amministrazione con la nostra amministrazione unitamente voglio dire anche agli altri sindaci e altri consiglieri regionali che sono venuti sul posto abbiamo creduto nella possibilità che si potesse fare qualcosa per un posto che alla fine è insomma importante all'interno dell'agronocerino sarnese ma da 50 anni l'ha detto lo stesso presidente De Luca da 50 anni non era stato mai affrontato e l'hanno conosciuto per la prima volta con questa amministrazione Zuottolo. La battaglia anzi la guerra non è assolutamente finita perché una volta che sarà battuto il ponte si dovrà andare avanti per interventi di risistemazione di tutto quello che è la portata di questo canale e anche su questo l'amministrazione continua a prestare la regione in maniera veramente molto molto forte. Continueremo sempre ad essere presenti per ora dobbiamo seguire il consorzio di bonifica perché il progetto esecutivo è adesso nelle mani per l'esecuzione del consorzio di bonifica ma nello stesso momento porteremo all'attenzione di chi di dovere tutti i problemi che interessano il territorio del comune di San Marzano sul Sarno c'è molto da fare anche per quanto riguarda gli argini per quanto riguarda il dissesto idrogeologico il dragaggio certamente è un piccolo passo che viene fatto ma è un piccolo pezzo di storia importante che viene scritto per il nostro comune. San Marzano sul Sarno c'è anche in regione.